Musica Portare il sole in classe nelle scuole è un'esperienza meravigliosa. Nei bambini c'è il mondo del futuro. I loro disegni ci fanno vedere come lo immaginano. Saranno le nostre scelte a renderlo possibile per loro. Come ambasciatore Hunter ringrazio il dirigente scolastico e gli insegnanti dell'Istituto Carlo Levi di Castel Giubileo per questa opportunità. Ringrazio i bambini per l'attenzione e la partecipazione e per aver tradotto in immagine le loro emozioni. Vi invito a votare i loro lavori per premiarne l'impegno. Grazie. Grazie.